Continua la pallavolo femminile di Sabaudia ad avere grandissimi risultati, il 6-7 aprile sarà tutta la città insieme alle ragazze per questa ennesima performance in Coppa Italia, siamo al secondo anno, altro grande risultato, altra magnifica espressione dello sport di Sabaudia. La Sabaudia che rappresento sta molto vicina a queste ragazze, sta vicina alla società che con grandi scorsi economici e anche altro riescono a tenere alto lo sport di Sabaudia, queste sono le cose che vogliamo, questa è la Sabaudia che vogliamo far conoscere in Italia e nel mondo, la città dello sport, la pallavolo in primis che è stata sempre una grandissima realtà del nostro sport cittadino. Quindi auguri ragazze, sono con voi, fatevi rispettare in quella lontana Montichiari, provincia di Precio. Auguri!